5 scelte immature da evitare quando ci stiamo relazionando, stiamo comunicando con gli altri. Quello che ti dirò tra un po' sono 5 degli errori più frequenti che in parte abbiamo fatto tutti, alcuni magari appartengono a una certa categoria di persone, però è importante riflettere un attimo su queste scelte perché questo porta anche a rovinare quello che è il nostro percorso, la nostra crescita. E allora partiamo da queste scelte immature partendo dalla numero 1, questa è abbastanza semplice da intuire che è quello di reagire con rabbia. Ora non so, magari ti sarà successo, però tante volte partiamo come dei missili quando ci toccano su qualcosa, ci innervosiamo, partiamo proprio, siamo troppo rabbiosi. Che cosa succede? È una cosa che non devo sicuramente stare io qui a dire, ma è il punto che quando siamo molto rabbiosi, probabilmente la maggior parte delle volte facciamo delle scelte che non sono le migliori. E la cosa poi paradossale che tra l'altro è quella dove peggioriamo ancora la condizione perché non solo abbiamo reagito male, ma poi cerchiamo anche, nonostante l'errore, di mantenere quelle nostre scelte, perché non possiamo dimostrarci, nel senso hai rotto un bicchiere e troverai tutte le scuse del mondo per giustificare il fatto che sia caduto quel bicchiere. Non dire ho sbagliato, mi è caduto il bicchiere. E allora portiamo avanti, andiamo a consumare un sacco di energia solo per il fatto che magari non riusciamo a chiedere scusa a chi avremmo in qualche maniera dovuto, oppure ci portiamo dietro questa non ragione giusto per difendere le nostre azioni. E' chiaro che questa non è una scelta matura, è una scelta che ci fa consumare energia, quindi reagire con rabbia non serve, ma qualora dovesse accadere abbiamo almeno quel minimo, quel briciolo di maturità e di attenzione nel dire scusa, ho sbagliato, non dovevo fare in quella maniera, ero molto rabbioso, ho risposto distinto, stop. Perché poi si genera una comunicazione, una serie di frasi, di racconti che vanno soltanto a mascherare quella cacchiolata che abbiamo fatto. Non ha assolutamente senso. Stop. Errore, per carità, siamo umani, però almeno lì subito chiediamo scusa. Altrimenti costruiamo questo palazzo di scuse che non ha nessuna utilità. Numero due, rinunciare per fretta. Che cosa significa? La semplifico con un esempio. Io vado in palestra, sempre di palestra parli, ma io vado in palestra, quindi ho quell'esempio in testa, e vado in palestra e allora voglio iniziare a lavorare sul mio fisico. Inizio, faccio tre esercizi, vado tre, quattro giorni e poi dico, boh, non sto vedendo risultati. Non funziona così e per i risultati serve tempo. Ora, senza soffermarsi sul discorso proprio specifico della palestra, però molte volte quello che facciamo è rifiutare, cioè rinunciamo per troppa fretta. Abbiamo perso il senso della pazienza, perché ormai il sistema ci sta abituando a questo, perché abbiamo un ordine, vogliamo un ordine su internet, ci arriva subito, vogliamo fare tutto subito. Invece ci sono ancora alcune cose che necessitano di tempo e di pazienza per fare la differenza. Rinunciare per fretta è un grandissimo errore. Vivere di gratificazione istantanea, cioè di trovare sempre delle cose che ti diano delle cose migliori, non so, è chiaro che se io vado a mangiarmi un dolce in un locale o in una pasticceria, io che poi tra l'altro sono super mega, iper, non so se si dica così, golosissimo, è chiaro, questa super torta è una gratificazione immediata, ma quella torta comunque non mi porta dei risultati, anzi, i risultati mi li porta qui, meno male che non si vede, cioè da parte, aspetta così non si vede neanche, meglio ancora, però a parte insomma della pancia, per dire, invece se lavoro su un discorso di esercizio fisico, piano piano vado a migliorare la mia struttura fisica muscolare, è l'esempio della palestra, ma lo puoi portare su tutto. E ricordiamoci di rinunciare per fretta, quella è una scelta assolutamente immatura, a parte ovviamente le circostanze particolari, ma in genere sì lo è. Poi che alcuno potrà dire, no, arriva il simpaticone di turno, dice a me piace essere immaturo, ma fai quello che ti pare, però quello che dico è che sicuramente questa non è una scelta sana, perché non ci porta poi a dei risultati efficaci. Paura ed orgoglio. Paura ed orgoglio un po' erano collegati al primo elemento di cui ti parlavo, per quale motivo? Paura ed orgoglio significa che spesso noi per paura non facciamo delle cose, per orgoglio nemmeno. Paura, esempio mio, tipico, altri video, ne parlo tantissime volte, se è la prima volta che mi vedi ti devo ricordare che io sono stato per moltissimo tempo della mia vita, ho avuto una paura terribile di parlare in pubblico. Allora questa paura di parlare in pubblico mi ha limitato un sacco di cose, non alzavo la mano, non esprimevo la mia idea, la mia timidezza collegata anche a questo, questo che cosa mi ha fatto? Mi ha precluso un sacco di occasioni. E ora che quantomeno ho migliorato questa parte di comunicazione, ho lavorato molto su me stesso, quanto mi pento di non averlo fatto prima in alcune circostanze, perché ho perso delle occasioni. Ma se non sono delle occasioni, anche difendere me stesso in una circostanza, oppure essere coinvolto in un dialogo su qualcosa che chiaramente io potevo dire la mia e potevo specificare meglio, per paura di pronunciare quelle parole, quelle parole sono stato messo nella mischia, invece potevo parlare e avere una mia propria identità, essere riconosciuto per quel tipo di persona, per quel tipo di pensiero che avevo. E tornando poi al discorso dell'orgoglio, l'orgoglio è ancora peggio. Peggio perché quante volte, quante volte, e come ti dicevo anche prima, ma no, facciamo un errore, per orgoglio non chiediamo scusa. È un orgoglio perché magari stiamo lì, no, no, non chiamo io, chiama lui, chiama lei. Tutte queste cose che per carità delle volte possono avere anche una logica, ma tante volte ci dimentichiamo del tempo molto breve, della vita in generale, e andiamo lì a chiuderci in queste cose. Stiamo perdendo occasioni importanti con persone che potrebbero renderci migliori nella nostra vita. Ci sono quelle persone che magari teniamo lontane per orgoglio, però ci rendiamo conto che forse di base c'è qualcosa che potrebbe andare, ma anche in un dialogo. Ma chiedi scusa se è necessario, chi se ne frega, non ti paga nessuno, non ti dà nessuno quel premio. Invece noi spesso per paura e orgoglio stiamo lì chiusi. E questo spesso è indice di maturità, non sempre, per carità, però penso alla paura in sé, come io magari l'approccio della mia paura quando ero adolescente, adesso ho ancora paura in molti casi, però insomma l'approccio, la visione è diversa. Anche l'orgoglio, rimanevo su quelle cose, lì testardo. Invece dobbiamo ricordarci che questo serve veramente a poco. E non c'è neanche una questione d'età, perché ti garantisco che succede anche di avere queste reazioni anche da persone che sono molto grandi e ancora rimangono ancorate, gioco di parole, bisticcio di parole, ancorate a questa cosa. E quindi paura e orgoglio dovremmo svancuffiarli proprio per cominciare a lavorare. Certo non è facile, non è immediato, la paura forse è più complessa, ma l'orgoglio in qualche maniera potremmo iniziare a gestirlo. Numero quattro, fare accordi egoisti. Che cosa significa? Questo fa parte di una categoria di persone, non tutti fanno così, però l'accordo egoista sta per, cerchiamo per esempio di trovare un esempio, tu fai un accordo con una persona, però sai che quell'accordo porta benefici soltanto a te e non all'altra persona. Fate finta che, non so, io stio vendendo una casa e quindi per forza cerco, ricerco, ricerco, per poi si scopre che non ha pavimento, però non lo dico, non dico niente, lo faccio perché tanto io lo scopo mio è quello di acquisire, di vendere quelli immobili. È un esempio strano, assurdo, perché magari il pavimento lo vedi, lo vedi subito, però ci sono alcune cose, magari che vengono nascoste. Ora, questo succede all'ordine del giorno, sono d'accordo con te, c'è sempre quello che cerca di ingannare l'altro, però se tu stai cercando di creare un tessuto, una relazione con le persone che ti stanno in giro, dopo un po' se fai questo, perché poi anche lì, perché non sei più chiaro, perché non riesci a costruire meglio le cose? Certo, non è che voglio venire qui a scoprire, hai scoperto l'acqua calda, ci sono un sacco di persone che vivono così, il punto è che se io voglio costruire, voglio costruire delle relazioni efficaci attorno a me, non voglio stare lì a lamentarmi per dire, mi ha fatto quello, mi ha fatto quell'altro, perché già quando ti comporti bene, ti fanno delle cose, figurati quando ti comporti peggio, tu sei d'accordo perché dice, tanto mi sono preso una ripicca, una vendetta, quindi sei tranquillo, ma alla fine non è cambiato nulla, quindi cerca di fare questo, se poi c'è qualcuno che si comporta male, lo stesso, pazienza, e la colpa è sua, non tua, perché questo poi piano piano ti porta anche in un assurdo meccanismo che anche tu, in automatico, sei tentato a ragionare in quella maniera, e ci saranno dei momenti in cui sei veramente da solo e che cosa fai? Tutti dovremmo seguirti? No, non sto dicendo questo, e lo so, lo so che già arriva quello, ma Giuseppe, sai, tutti, ognuno pensa a se stesso, sono il primo a dire che di base siamo egoisti come esseri umani, ma perché dobbiamo accentuare questa problematica, almeno nel cerchio delle relazioni più vicine a noi, almeno lì dovremmo cercare di essere un po' più sani. Numero 5, fare accordi perdenti, questo che cosa significa? E' collegato al resto? Ma se è vero che non devo fare accordi egoisti, non devo fare neanche accordi perdenti, e che cosa significa? Quante volte ti hanno chiesto una cosa e tu per paura di dire di no, hai detto sì, ma io penso, lo so, vuoi andare a parlare a quello, fare quell'altro, devi parlare in pubblico, devi fare questo, ti chiedono questo tipo di lavoro, e tu hai paura di dire di no, hai paura di rifiutare quella cosa, perché hai paura di rifiutare? Perché giustamente ti sembra male dire di no, ma quello non è un accordo positivo, non è che se mi invitano ad andare a mangiare io devo andare per forza, no, devo andare a fare quella cosa, no, sono accordi perdenti perché tu non ti trovi comodo in quella condizione. E' vero? Anche questo qui è dannoso a livello di relazioni, perché va a chiudere, a limitare alcune cose, però, piano piano, le persone che ti vogliono star vicine, ti staranno vicine, quelli che capiscono, è una sorta di filtro con le relazioni altrui, perché altrimenti cercare di fare continuamente questi accordi perdenti, piano piano noi ci annulliamo e viviamo su un'immagine che gli altri vorrebbero di noi, ma che a noi non porta nessun risultato. Ecco perché dico accordi perdenti, per cui cinque scelte da evitare, reagire con rabbia, rinunciare per fretta, paura e orgoglio, fare accordi egoisti, ma nemmeno fare accordi perdenti, trovare un sano equilibrio, così almeno cerchiamo di costruire attorno a noi delle relazioni più efficace e anche noi siamo un po' più tranquilli con noi stessi.